hai un bel filmato magari è già in corso un saluto dal monastero san domenico ciao dove si trova questo monastero? noi siamo nominati ciclisti per passo a tutto il gruppo è quella della domenica è quella della domenica anche si trova in agro di Pallodoncolla su via Megra questa strada viene chiamata via Megra io vedi ce l'ho qua